Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, alcune riflessioni dopo le elezioni regionali in Abruzzo vinte in modo netto da Marsilio dal candidato di centrodestra, candidato uscente che dunque viene riconfermato alla guida della regione. Prima considerazione è sempre la stessa ma voglio ribadirla perché è fondamentale capire la disaffezione nei confronti delle elezioni. Gli elettori che non si recono alle urne sono sempre tantissimi, ormai siamo quasi in presenza di un elettore su due o poco meno che decide di non aderire al gioco elettorale, all'importante gioco elettorale o al non importante gioco elettorale, che gioco non dovrebbe essere anche se il gioco ha una dimensione importante da un punto di vista anche esistenziale, filosofico, però c'è ormai un'Italia che si tiene fuori, non vuol dire che poi alle politiche tra tanti anni perché per me il governo Meloni durerà tutta la legislatura, non ho detto che da tanti anni poi non torneranno alle urne questi cittadini che ad ora hanno deciso di non presentarsi. Seconda riflessione, il centrodestra, le liste del centrodestra continuano ad essere forti tra coloro che vanno a votare, sono la maggioranza degli italiani tra quelli che vanno a votare, così come lo erano già in Sardegna, ancora di più in Abruzzo, tutte le liste collegate al centrodestra, fratelli d'Italia, Forza Italia che ottiene un ottimo risultato, i moderati e anche la Lega in crisi ci torno dopo, sono nettamente la maggioranza del paese e vuol dire che tra chi sceglie di votare il centrodestra è molto 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 forte. Dunque non c'è una crisi del governo Meloni come il centrosinistra ha un po' cavalcato in maniera abbastanza ingenua, pensare che dalla Sardegna iniziasse la riscorsa del centrosinistra innanzitutto da trasformare un'elezione regionale in una nazionale e così non è mai perché in Sardegna il candidato del centrosinistra era un candidato comunque forte, apprezzato soprattutto a Cagliari mentre il candidato del centrodestra era debole soprattutto a Cagliari, la città che amministra come sindaco e dunque c'è un evidente tentativo di nazionalizzare quello che è regionale. Terza riflessione, parto dal centrosinistra o da quello che viene definito campo largo, espressione che io trovo abbastanza brutta. Allora, il campo largo non esiste, mi spiace dare ragione a Calenda, perché poi vi dirò anche il perché. Non esiste perché è un accordo al massimo elettorale contro la Meloni, contro il centrodestra, ma non c'è un programma di ampio respiro, magari non c'è neanche nel centrodestra, ma non c'è chiaramente un programma, non c'è un'identità e di questo campo largo. Quando le persone vanno a votare il centro d'identità o lo fanno per interesse spiccio, pratico e a volte il centrodestra garantisce degli interessi molto più spicci e pratici, altrimenti uno non va a votare. Qual è il programma del campo largo? Ci sono mille vetti incrociati del PD sui 5 Stelle e del 5 Stelle sul PD. Dunque non c'è un campo largo, sono degli accordi ad hoc per provare a vincere delle elezioni, si stila anche un programma per carità regionale e in Abruzzo c'erano anche alcuni aspetti interessanti del programma del campo largo, però gli elettori lo percepiscono proprio solo come un'alleanza elettorale, i cittadini dunque non si sono avvicinati e soprattutto non hai portato gli indecisi verso il campo largo e soprattutto coloro che si astengono. arriviamo nel campo largo, ma da dove a dove? Dalla sinistra di Fratoianni a Renzi e Calenda con dentro il PD ai 5 Stelle? Allora Calenda e Renzi sono contro i 5 Stelle, sono i nemici pubblici numero uno dei 5 Stelle, i 5 Stelle li considerano il peggio del peggio, l'odio politico tra i 5 Stelle e Renzi è fortissimo, ma ha la stessa avversione che c'è tra Calenda e Conte, ma possono stare tutti insieme in nome, non è un fronte opolare perché c'è il fascismo alle porte a mio avviso, c'è un governo per alcuni aspetti conservatore, nazionalista sicuramente, che poi si muove in politica estera, in politica economica sempre prendo i dittami no da Washington o da Bruxelles, pertanto il fascismo alle porte non c'è non c'è e non puoi fare un fronte così largo tra soggetti che hanno visioni opposte su tutte, visioni diverse in ambito economico tra 5 Stelle, Renzi e Calenda, visioni diverse sulla guerra, sulla guerra in Ucraina, sulla guerra o meglio massacro nella striscia di Gaza, non puoi fare una cozzaglia di questo tipo e serve chiarezza, serve chiarezza, pulizia politica, pulizia nel senso di idee politiche, di programmi politici, anche se non viviamo più nell'epoca dei grandi programmi, delle grandi ideologie, non possiamo immaginare di mettere insieme tutti questi soggetti, questa è solo la campagna fatta ai 5 Stelle contro il papà di Renzi e Lotti che, bisogna ricordarlo, sono stati scagionati da tutto e dunque è inimmaginabile mettere insieme tutta questa arbata veramente branca leone, l'elettore non la sostiene, non la segue e soprattutto, ripeto, i cittadini così si allontanano più che mai dalla politica e dal centro-sinistra e questa chiaramente poi è una problematica tutta in mano al PD che è il partito comunque più forte del centro-sinistra e con questi veti incrociati risulta essere poi messo in un angolo, lo stesso PD è diviso tra chi vuole chiaramente l'alleanza con i 5 stelle, la vuole organica e chi non la vuole, tanto a vocazione maggioritaria il PD per guidare il paese non potrà mai essere, il PD da solo non può vincere le elezioni del paese, ma se c'è un'alleanza con i 5 stelle non ci sarà con Calenda e Renzi e un terzo polo Calenda, Renzi, Tajani non è alle porte perché comunque il centro-destra trova un'unità molto forte, faccio ancora un esempio e passo al centro-destra, i 5 stelle in grande difficoltà lo sono sempre a livello di elezioni amministrative ma qui perdono veramente tantissimi tantissimi voti. Passo al centro-destra, il centro-destra non ha dei così grandi veti incrociati, mi spiego ci sono ma non così grandi, alla fine si votano reciprocamente, se c'è il candidato della Lega e quello viene votato, se c'è quello di Fratelli d'Italia viene votato, se c'è quello dei moderati o di Fratelli d'Italia viene votato, dunque ci sono dei malumori ma sono molto più uniti anche per il potere, non che il centro-destra non lo sia, ma governando continui a governare, sono delle regole basiche proprio dai tempi di Roma a Machiavelli, hai il potere lo devi gestire, riesci anche ad allocare tantissime risorse, tantissimi tuoi uomini, tantissime donne dentro le regioni, dentro gli apparati dello Stato, quando hai il potere è più facile mantenerlo e conservarlo, poi alcune linee guida ci sono nel centro-destra, ma nel centro-destra c'è la crisi della Lega, crisi, ho già più volte detto, dovuto una leadership comunque imbarazzante per gli stessi anche elettori del centro-destra, Salvini è anche scaricato al nord, ricordiamoci, da molti dei suoi elettori o da molti militanti che chiedono un convegno perché questa Lega nazionale, addirittura meridionalista, non piace, il Salvini che vuole il ponte sullo stretto, il Salvini che vuole imporre il suo candidato non so, in Basilicata, Salvini in Calabria, c'è una maretta al nord, Salvini la lega è nata per la questione settentrionale, la stai tradendo, dunque Salvini non suona dal sud, perde dei pezzi al nord ed è eroso, da chi è più moderato, che va verso Forza Italia e poi da chi chiaramente è più anche legato al nazionalismo e segue la Meloni, perché se c'è un progetto nazionalista come quello della Meloni, perché votare un altro progetto nazionalista come quello della Lega di Salvini e tutti gli appelli contro gli immigrati, i Salvini così anche esasperati, non fanno breccia comunque così tanto e poi c'è un paese reale che ha paura di una certa immigrazione ma non cede alla retorica di Salvini, dunque veramente il centro-destra riesce ad essere unito nonostante dei mal di pancia e la crisi della Lega vediamo dove giungerà, dove giungerà, perché un congresso Salvini dovrebbe forse farlo, certo Giorgetti e Zaia non sembrano pronti a guidare una scalata al partito, c'è una sorta di patto, patto interno per non farsi anche, per non farsi del male, è importante le cartelle elettorali esattoriali vengono dal governo mandate al macero o diluite in dieci anni, perché parlo di questo, questo è un elemento molto forte del centro-destra che interviene sulla questione molto concreta, quella delle tasse, dunque che sia il governo nazionale, che sia il governo locale, quando tu provi a diminuire le tasse o addirittura a non farle pagare, anche se poi questo crea un disavanzo, crea un peggioramento del servizio pubblico, della strada, della scuola, gli elettori non ci pensi immediatamente, c'è una parte dei elettori che guarda a questo aspetto molto concreto, mi diluiscono nel pagamento delle tasse o addirittura mi mandano a rottamare delle tasse che dovevo pagare, quello vale molto di più del dire che l'Abruzzo è bagliato da tre mari, a volte è improponibile, per me è Matteo Saudino che un presidente della regione come l'Abruzzo dica che l'Abruzzo è bagliato da tre mari, è improponibile, sono degli errori che non si possono fare, di ignoranza sfaventosa, ma non è quello al centro di una campagna elettorale, lo puoi perdonare, i gaffer in politica, se poi non sono anche dei buoni politicanti, hanno una buona rete di appoggi politici, di gruppi di interesse che lo sostengono e se hai governato anche bene perché Marsiglio avrà fatto delle cose buone, ovviamente quelle gaff ti vengono perdonate, passano in secondo piano, non si vota quasi mai con la prevalenza dell'intelletto ci direbbe Platone, ma si vota sempre con la prevalenza della pancia e dell'interesse che sta qua, dietro c'è del portafoglio.